Anche io sono molto contento, lui ha detto che mi piace molto quando sono vicino a Firenze, sempre io vado la partita, io ho sentito, io sono molto contento, molto onore, grazie per lui, anche lui è bravo allenatore, io ho visto la Chelsea, io ho visto la Juve, la Lazio, tutti, mi piace molto perché lui è un grande personaggio, è un grande allenatore. Veramente abbiamo cominciato benissimo il campionato, anche il group stage, però come si dice, forse è la prima volta che giochiamo come una squadra, come Fiorentina, per quello io posso dire che Fiorentina è il favorito del gruppo perché c'è tanti bravi giocatori, un allenatore, io ho molto rispetto da lui, ma sai, noi abbiamo fatto benissimo gli ultimi momenti, io lo sai che anche Fiorentina, l'ultimo non è partita, quasi due.